L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate nel Vangelo di San Luca scritto, il regno di Dio è nel cuore dell'uomo. Non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dir a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano. Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando la verità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Sì!